Il museo della sorveglianza si è presentato al lavoro alle 7 di stamattina, il ritranto era sparito. E quando il museo aveva chiuso ieri sera, l'Igoia era ancora a suo posto. Il Mall Gallery chiede a chiunque sia stato qui ieri e abbia notato qualcosa di strano o delle persone sospette, di contattare la polizia. Sarà già uscito dal paese, commissario. Visto il livello di organizzazione e di esperienze necessari a compiere un atto del genere, crediamo che sia stato rubato su commissione per mano di una banda che agisce su scala internazionale. Ben finanziata. Non è che sia granché, non trovi? Che si fa con la polizia? Nessuno cercherà il duca di Wellington a Benwell. Cristo! Non toccarlo! Cristo! E' proprio di lui che avremmo bisogno adesso. Scusa, perché? Era falegname. Ci vorrebbe uno che mettesse un doppio fondo all'armadio. Lo posso fare io? E allora muoviti! Prossima mossa, comunicazione. Usa le lettere del giornale. No, così fai capire che giornale leggi, che colla in casa, se usi le forbici da destro o da mancino. Sono già tre coordinate, ti beccano subito. Perciò questa lettera non verrà spedita da Newcastle. Non dubitate che io abbia il goia. Il mio gesto è un tentativo di derubare chi ha più a cuore l'arte che la beneficenza. Sembra scritto da Robin Hood. Bravo! Mamma! Cristo! Cristo! Grazie.